Poteva avere vent'anni. I capelli scuri e lunghissimi, bagnati di pioggia, le ricadevano sul volto ma non potevano coprirne la luce, l'incanto dell'ovale, gli occhi chiari e stanchi, la bocca socchiusa, ansante per la recente corsa. Una piccola cicatrice le attraversava la guancia, la carezza di un Dio innamorato e maldestro. Un grosso zaino sulle spalle indicava che stava viaggiando, era snella e che minava diritta come se andasse all'altare. Anche fra Galdisio e frate Cicero si accorsero della sua bellezza e sorrisero timidi e affascinati. Io no, senza rendermi conto del perché io tremai. Lei entrò nel percorso del chiostro dal primo lato est dove splendeva la luce di una lanterna rimasta accesa. Camminava piano, appariva e scompariva tra le colonne seguita da un passero saltellante e quando guardava in alto il collo e il mento erano più bianchi del colonnato e una mano scostava i capelli dal volto. Immaginai che quella mano fosse la mia. Un tuono più forte degli altri percosse l'aria. Lei si avvicinò, io non fuggii. Avevo sempre pensato che l'incanto della donna fosse chiuso nello scrigno delle poesie o nel soltilezzo dei quadri. Che niente potesse essere bello come le nobile donne e le madonne dipinte trasfigurate dalla passione dell'arte e dell'amore di Dio. Avevo creduto che il turbamento provato in giovinezza per qualche donna fosse solo il riflesso di quella bellezza inventata e sospesa. Maliai era lì e si avvicinava, vera e terribile. Con gli occhi accesi dalla curiosità venne proprio verso di me. Io non potevo muovermi né distogliere gli occhi. Tremavo al ritmo della pioggia e dei suoi passi e nuovamente lei con una mano si scostò i capelli e i suoi occhi erano color miele. Il miele delle api. E pensai ora la sua voce mi libererà dall'incantesimo. Una lingua straniera, un accento, una voce flebile la riporterà nel mondo e io con lei. Ma lei fece un cenno con le mani sottili, un cenno che io capii subito, voleva dire posso continuare la mia visita, posso andare nell'altra parte del chiostro. E io con un cenno le spiegai che frate Cicero l'avrebbe accompagnata e con un sorriso aggiunsi che lei era gradita tra noi. E lei disse qualcosa muovendo le dita rapida e non ebbi più paura. Le spiegai con gli occhi. Siamo uguali ma non conosco il tuo alfabeto. Era muta. Un po' stupita mi guardò. Aveva di fronte un muto che non parlava la lingua dei muti. Sostenì il suo sguardo e vedi che in un attimo sapeva di me più di quanto nessuno avesse mai saputo. E insieme ridemmo. Era venuta da lontano. Era ciò che avevo aspettato da sempre. Il punto del vento, delle api, degli steli, supra nos silenzium siderum. E ora le stelle erano cadute. Lei era tutto ciò a cui il mio silenzio era dedicato. Le parole, la grammatica, il libro, le nuvole dell'attesa, il tuono del desiderio. E piansi davanti alla bellezza e a tutti gli dei che mi erano venuti a trovare. Al loro sciame festoso di cui lei era regina. L'imperfetta, addolorata regina. E lei mi toccò la spalla turbata dal mio pianto. Io la abbracciai piangendo più forte. Caddi in ginocchio e le baciai le mani e mettendo dalla mia gola rugginosa un suono incomprensibile e dolce. Mi portarono via in fretta, irrosamente. Mi trascinarono. Non riuscì neanche a vedere la sua reazione. Addio, addio, gridavo con fucerocca di vecchio cane, la mia nuova voce ritrovata. C'è qualcosa nel buio di questa cella e nell'odore di muffa e terra che ogni mattina mi risveglia. È uno spiraglio di sole, una falce di luce che illumina sempre lo stesso punto nel muro. E in quel punto io ho disegnato con un coccio di mattone il volto della ragazza. E intorno un volo di api, una nuvola, alberi. salve regina, canto dentro di me, ridendo. Siamo noi le parole, infinito lo sciame degli dei, infinita, la loro bellezza che vola e morde. E ogni tanto il silenzio mi si spezza dentro all'improvviso e la mia voce si spalanca in un urlo che atterrisce tutto il convento. non capite, grido, perché non capite. insieme a noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.